ciao a tutti bentornati al canale oggi da stradivarius da zara e anche naciona quindi iniziamo subito qua allora andremo a vedere qualche cosina che ho visto per voi ad esempio questo vestito un vestito molto molto estivo con una cinta e viene così vedete si allaccia così il tessuto mi è piaciuto poi ho visto questa borsa così tipo azequielo la parte di sotto così davanti così e alla tracolla che è regolabile quindi la puoi mettere più corta e più lunga e il prezzo è con lo qua 20 euro poi ho visto questa totem bag che mi è piaciuta perché è rigida vedete vediamo un po' dentro come è fatta viene foderata la parte delle haze è così il design e costa 36 euro mi è piaciuta poi queste scarpe queste scarpe io ho iniziato a vederle in altri negozi e vediamo il prezzo 30 euro e non è soffice quindi può far male ai piedi e parlando di piedi ecco queste carine a me sono piaciute e in 36 euro le ho viste in altri negozi e poi delle borse piccole diversi colori a 26 euro e c'è questo blu questo azzurro e c'è anche questa di colore fucsia un po' più grande e un altro tessuto come se fosse raffia eccoli in 15 euro vediamo qua un'altra borsa tipo sequelo questa invece si apre e si chiude così e si porta a mano e secondo me ha la tracolla lì dentro il prezzo 30 euro e poi questa cinta è semplice però di effetto in 18 euro vedete la fibbia carina si può mettere sopra un vestito e poi queste quest'altra borsa tipo totem bag e ci sono queste scarpe scolate dietro in 20 euro e la punta cioè a punta eccolo lì e c'era anche questo bikini e mi è piaciuto il tessuto vediamo i loro prezzi la parte di sotto mi sembra che era 13 euro sì ecco lì 13 euro di colore bianco c'erano altri colore se volete vedere altri bikini ditemelo che io vengo qua e poi ho visto questa camicia e a 20 euro in questo azzurro così carino con questi forellini e fiorellini mi avete capito vedete mi avvicino un po' bene per farvi la vedere adesso andiamo da Stradivarius a vedere altre novità ho visto queste scarpe in 30 euro con il tacco così non sono tanto tante alte mi avete capito e qua ci sono queste ballerine e qua ci sono queste ballerine con delle fibbie cioè qua con tutti i frutti ha le borchie un nastrino davanti ha due fibbie ha il nastro da mettere nella caviglia è bassa il prezzo 30 euro e poi ho visto questa borsa che c'è anche di colore è nero questa costa 29 euro la catena è pesante è grande vedete si ha preso e chiude con un bottoncino lì magnetico e poi ho visto questo capotto che mi è sembrato un po' strano vederlo perché già siamo quasi quasi in primavera perché il capotto è bello grosso cioè 49 euro cioè 50 il colore mi è piaciuto moltissimo moltissimo bello bello e loro l'hanno abbinato a questa maglia qua che l'ho vista per San Valentino c'era questa linea qua eccoli il prezzo la malettina è carina vediamo l'altra parte l'altra metà del capotto perché stava tutto con queste mali vedete che vanno molto molto in tendenza con delle scritte va bene questo lo staremo vedendo molto molto adesso eccoli i bottoncini poi ho visto queste piattaforme di colore è nero non sono tanto pesante cioè secondo me vanno bene e poi il prezzo 26 euro sono carine molto molto anni 2000 e poi questa borsa mi è piaciuta in 22 euro sembra di quel cuoio vedete bellutato questo era in colore verde e c'era anche in un colore marrone che te lo faccio vedere adesso guardate questo questa qua è stata la mia preferita carina mi è piaciuta molto e poi queste maglie metallizzate che vanno molto ma molto in tendenza adesso guardate quella lì con i cuoricini adesso andiamo da Zara per scoprire tante cose belle ad esempio questo body carinissimo loro per questa stagione ci propongono tanto tanto blim blim guardiamolo bene nel dettaglio te lo faccio vedere eccole lì molto molto carina la parte di dietro non c'è questo è un body come vi ho detto vedete il manichè un po' strano però va bene ci sta eccole la parte di sotto e poi questo qua è un top crop corto vedete il colore è così come un blu verso il grigio a 18 euro carina però mi è piaciuta di più quella bianca vedete è lo stesso è lo stesso strass però vedete la parte dietro io pensavo che non era cucito invece no non è cucito poi ho visto questo pantaloncino che sembra un pantaloncino in 18 euro la parte davanti alla decorazione dietro no da fare il completino questo qua è stato il mio pezzo preferito è una maglia guardate 18 euro una maglia con una manica e corta e carina il tessuto e non è un tessuto fine e carina vedete la vicino bene io qua volevo farti vedere il luce che io per per via delle luci non so questo è meglio vederlo e cioè di persona quando non riesce non si riesce perché ci sono luce ombre va bene poi ho visto questo vestito vedete è uguale le stesse pietrusche solo che un vestito midi attillato di colore grigio in 30 euro e con lì il tessuto dietro non c'è niente e viene come così come in degradé così come che inizia tanto e poi sotto non c'è niente voi avete visto questa borsa allora mi è piaciuta di più di questo lato se entrambi i lati fosse così l'avrei presa però no a queste fibbie così no così cioè carina però secondo me è più bella così che ne dite voi va bene andiamo a vedere quanto costa è 30 euro eccola lì io qua stavo valutando se la prendevo o no però no alla fine non l'ho presa per via di quelle fibbie lì che mi disturbavano e ha questo dettaglio lì però non si vede bene perché c'era attaccato con lo scotch va bene io non mi mettevo lì a toglierlo però più o meno così e poi c'è questa qua guardate il dettaglio lì da tutti i due lati è 19 euro e questa qua guardatela ha la doppia lo doppio sì lo potete la potete aprire tutta o soltanto la parte di sopra questo già è preferenza o va bene per me è più comoda così e poi il prezzo questa veniva in 26 euro è irregolabile con la tracolla con i fori la fibbia è fatta così a doppia fibbia vedete entrambi i lati poi ho visto questa qua che sembra più necessaire 26 euro è una borsa non ho capito molto bene se una borsa di un necessaire che cos'è perché vedete si apre tutto quindi questo non lo so che è facile da indossare non lo so e a fianco c'era questa borsa qua che è dentro va bene a 36 euro dentro a tipo come questo vedete lì possiamo mettere tutte le cose importanti ecco ed è maxi per le ragazze che le piacciono le borse maxi sotto c'erano questi sandali così in 30 euro qua si mette l'aluce e viene cruciata davanti dietro stalonate e va bene così sono di colore bianco con nero va bene ragazzi il video finisce così spero che vi sia piaciuto vi mando tanti besitos dalla spagna ci vediamo prossimamente in un prossimo video ciao ciao